No, sei una frana! Ma usali più colori! Usa il rosso, anzi no, il blu! Più blu! No, non così, più chiaro, più scuro, ma che... Ti vi indica le zone erogene? Oh, mio marito lo sa benissimo, è d'este parti! Andarlo! È zone erogene! E chi ha più visi? Mi sembra vicino al piccio! Le vie dei computer sono infinite! Senti un po' col tuo spectrum, se vendessi oro e comprassi azioni... Papà, forse è meglio fare la schedina! Grazie a tutti! Vieta? Commodore 64, anche per la dieta! Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti.